Un enorme interminabile colonna nera di fumo ieri ha fatto suonare l'allarme a Ragusa incontrata a Tabuna nella zona industriale della città. All'improvviso il materiale gassoso nero di forte densità si è elevato da uno dei camini della Versalis. Immediato l'intervento di tecnici dell'ARPE di una pattuglia della polizia locale. L'attenzione si è concentrata sulla natura delle missioni. Subito rassicurante il sindaco Cassì che circoscrive da appena 20 minuti la durata del fenomeno. Stando alle prime verifiche si è trattato di un blocco degli impianti causato da un guasto elettrico con relativa attivazione dei sistemi di prevenzione tra cui la torcia di sicurezza. È stata proprio questa a causa di un temporaneo deficit di quantitativi di aria a determinare l'emissione di fumo scuro. Ulteriori verifiche annuncia Cassì. Un invito a non minimizzare e a non essere superficiali giunge dal capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo dell'Aquila Zara Federico che sottolinea la preoccupazione per il potenziale inquinamento che si sarebbe potuto generare e invita l'amministrazione comunale a proseguire le verifiche per far sì che al di là di ogni ragionevole dubbio tutti i timori possano essere fugati. Il potenziale inquinamento che ogni giorno arriva sulla città conclude Federico è un fenomeno non ancora attentamente analizzato e quindi episodi del genere rischiano di mettere in su buio come è naturale che sia l'intera città.